Signore e signori bentornati al nuovo appuntamento come ormai sarà da qui alla fine dell'estate ogni giovedì verso le ore 18 minuto più minuto meno la puntata settimanale del diamante parliamo dunque di baseball e softball e ne abbiamo da dire tante perché per il softball c'è un turno in più giocato nell'infra settimanale del 2 giugno giorno di festa ma la settimana si era aperta con una partita un derby storico tra la Fiorentina Baseball e l'Ecopolis Grosseto e allora se vogliamo far partire delle immagini del match che abbiamo trasmesso in diretta grazie all'ospitalità tecnica della Fiorentina Baseball e Derek Piton Vittoria in match 1 nella gara del pomeriggio delle BBC e l'Ecopolis Grosseto per 11 a 3 Andiamo a vedere quello che è stato il contributo di Grosseto 9 su 34 un doppio di Viscontri un triplo di faccendini contro la produzione della Fiorentina Baseball il fuoricampo ha immediato al primo attacco possibile di Biffoli da 3 punti e poi però Grosseto ha ribaltato più forte il team più attrezzato il team mano in mano che ha fatto suo gara 1 per 11 a 3 andando a stampare un 9 su 34 nel box di battuta contro l'8 su 34 della Fiorentina Baseball nell'incontro serale invece grande sorpresa credo che pochi potessero aver scommesso di una vittoria di una giovanissima Fiorentina Baseball che vince con l'Ecopolis Grosseto per 2 a 1 approfittando in mezzo al match di un doppio passaggio a voto Grossetano due assistenze sbagliate del lanciatore in terza e poi dalla terza alla seconda e dalla seconda sempre in terza con pallina che è finita vicino al dugout Grossetano sono entrati due punti del 2 a 0 che ha retto fino alla fine della partita quando al nono della partita serale Grosseto ha segnato il punto che poteva provare a rimettere in scia i maremani il singolo dell'appena entrato Sniaolin con però poi Maggio che prima approfitta di una pallina persa da bifoli in faule poi con Martín Pedro Xoresi che in vena di prodezze stampa il K numero 11 in due partite 4 di San Marino e 11 con il Grosseto sale a 15 di strikeout e virtualmente ha in testa la classifica degli strikeout perché la classifica per rendimento premia soprattutto i lanciatori del girone C quello a 5 squadre che sono già arrivati a disputare 4 incontri dunque hanno medie maggiori a proposito di questa partita ho tratto due spunti con due collegamenti in stream prima con Andrea Sniaolin prima base capitano di Ecopolis Grosseto e poi con Martín Perex Orexis il lanciatore della Fiorentina Vesbo per cui chiedo alla regia di mettervi in onda e ci sentiamo tra qualche minuto mi scuso volevo realizzare lo stream con i due ragazzi insieme ma per esigenze di orario Orexis era andato al campo ad allenarsi mentre Sniaolin che mi ha fatto vedere il piccolo figlioretto per video doveva metterlo a nanna dunque uno stream per volta la prossima volta li facciamo assolutamente insieme Lina alla regia Allora eh il collegamento per la seconda puntata del Diamante il nostro settimanale che va in onda ogni giovedì verso le 18 e 30 sul canale 196 siamo nel post del primo derby di stagione Fiorentina Grosseto tre undici prima masce nettamente a favore del Grosseto ma la sorpresa arriva da gara due dove ho definito la Fiorentina che vince due a uno autrice di un grandioso gioco spugna perché andiamo la Fiorentina va a fare due punti su due lanci sbagliati interni da parte del lanciatore di Grosseto e da parte del suo seconda base che permettono ai due corridori messi in base per Bol di arrivare a casa e di lì siglare il due a uno finale Allora con Andrea Sniaolin ciao Andrea buonasera Ciao buonasera a tutti Capitano del del mio Grosseto perché nessuno me ne voglia male ma dopo tanti anni di militanza Fiorentina è con grande onore che sono passato a divenire la televisione ufficiale delle BBC Grosseto quest'anno targato Ecopolis allora capitano andiamo andiamo a rivedere quell'attimo fatale si gioca il nono inning di gara due perdete due a zero tu entri al posto di Mercuri un giro di massa vuoto la valida poi entra nel boxe lo spauracchio Matteo Maggio autore del primo fuoricampo in gara uno contro i Lancers due settimane fa succede quasi l'imponderabile la battuta che si alza in faula arriva Biffoli nuovo catcher della Fiorentina Besbo ci mette il guantone quasi di incanto la pallina gli rimbalza e va per terra cosa hai pensato in quel minuto istante secondo? Te chiedi già in prima base ma è il video perché ero infortunato ma al posto di Mercuri diciamo il torneo come corretto ma e quando ho visto veramente ho pensato che deve essere per far affrontare però purtroppo non è siamo trovati di fronte comunque lanciatore la sua strategia dall'inizio e purtroppo errori ci hanno condizionato e la partita è purtroppo a favore della nella ripetizione lancio successiva arriva lo strikeout numero undici che di fatto pone fine al match allora vorrei che tu ti stessi un un voto a alle due prestazioni del tuo grosseto dove in gara uno battete nove valid su trentaquattro un doppio e un triplo il doppio di Biscontri il triplo di Faccendini in seconda manche sei su trenta con il doppio di mangio in influente eh come lo vogliamo giudicare un piccolo passo indietro rispetto ai Lancers oppure ovviamente partita di ben altro spessore e alla luce di quello che è successo forse un pizzichino di sufficienza vostro dove in quel momento in cui avete sbagliato le due assistenze interne la Fiorentina ha approfittato pur vincendo pur andando a battere solamente tre valide su venticinque turni con solamente appunto i punti di Biffoli e Krasnici che hanno portato alla vittoria come ve la siete rivista e come ve la siete giudicata nel dugout e negli spogliatoi prima di tornare a Grosseto o anche durante il viaggio? ma come ti dicevo prima ripeto sicuramente un eh dall'inizio alla fine davanti la sua strategia e si è messo in difficoltà la cosa che abbiamo riflettuto e abbiamo analizzato diciamo dopo passavano gli indi che abbiamo dovuto diare poi la nostra attacco quindi non eh eh seguire quello che stava ovviamente davanti lui come strategia difensiva dal punto di vista del lanciatore di eh attuare dei scorgimenti, dei piccoli cambiamenti che ci avrebbero consentire di essere più efficaci nel box ma non è avvenuto il baseball questo, queste partite ci sono anche giovani nel roster e senz'altro una partita può farci migliorare ovviamente vengono in maniera giusta senti e adesso si va a giocare sabato quello che è il match più atteso, il grande San Marino che viaggia con quattro vinte due sulla Fiorentina Baseball e due sui Lancers è la partita più attesa di tutto il vostro girone per quello che riguarda la fase di andata con che motivazioni saliamo tutti quanti a Serravalle sabato pomeriggio e sabato sera? Ma un grande San Marino che è finalista insomma del pilato scorso eh grande ovviamente noi andiamo la partita senza paura eh diciamo ecco faremo le particolari ce la metteremo due noi facciamo sempre campionato bene allora eh Andrea visto l'ora ti lascio alla tua famiglia al tuo splendido bambino che ci segue sulla televisione ci troviamo direttamente a Serravalle io vengo con i miei ragazzi e montiamo le nostre telecamere ciao a presto piccolino ti abbraccio vi abbraccio tutti forza Grosseto ricordiamo gli appuntamenti dalle ore quindici quattordici e cinquanta gara uno dalle ore venti e venticinque gara due tutto sul canale cento novantasei di tele Firenze Viola Super Sport oppure chi non possa vederci perché magari il pontenario difetta andate sullo YouTube di Firenze Viola Super Sport e cliccate sulla partita trovate il cartello che preannuncia le due partite date per televisione ve le godete in sul canale web sul vostro computer se non riuscite a seguirci per televisione ti abbraccio fai un in bocca al lupo a tutti i ragazzi o voglio di rivedervi o voglio di festeggiare qualcosa di importante sabato con tutti voi grazie Andrea a presto a tutti ciao eccoci qua la seconda puntata allora per qualche problema di connessione internet è già tardi i bambini devono essere messi a letto per cui abbiamo fatto da una parte Andrea Sniaolin capitano dell'Ecopolis Grosseto che ti saluta ha detto che tu hai trovato la tua la tua la tua strategia vincente undici strike out che con i quattro di San Marino fanno quindici sei di fatto dovresti essere il primo lanciatore per partite regolari perché la speciale classifica riguardo agli strike out è comandata dai lanciatori del girone C che sono già ad aver fatto gara numero tre per cui comunque il sempreverdi Martín Perex Orexis vince il duello con i lanciatori di Grosseto li smonta tutti uno dopo l'altro e la Fiorentina si porta a vincere la sua manche numero due dopo che nel pomeriggio di sabato il Grosseto l'ecoporio di Grosseto pure ragazzi mi ha detto li avete fatti soffrire per tre inning la bombardata di bifoli fuori dalla recinzione ha lasciato lì un pochino bocca aperta il Grosseto poi tu hai trovato sulla tua strada il partente prima 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 Grosseto ha schierato ora professione foglie delle allora prima ha schierato eh Oberto poi ha messo Hidalgo infine ha messo Bulfone eh tu hai avuto anzi correggo in gara due prima Moroso poi Hidalgo in terza in terza parte hai trovato Oberto e te lo sei spalmato fanno il burro e marmellata come si dice allora con Andrea Sniaolin stavamo ripercorrendo l'attimo fatale perché potevo sapere il tuo stato d'animo quando ad un passo dalla vittoria esce Mercuri zero su tre entra capitano Sniaolin batte valido va in prima e nel boxe si paventa lo spauracchio Maggio fuoricampo in gara uno contro i Lancers il doppio al primo alla prima pallina che gli hai dato nel corso del terzo Maggio alza un po' appena appena fuori di casa base Biffoli il tuo nuovo ricevitore per chiuderlo la pallina come per un bizzarro gioco della sorte casca per terra allora so che vi siete incrociati Biffoli ha cominciato a guardare il cielo e a mandare un sacco di 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 paroline da qualche parte tu l'hai guardato cosa ti è passato in mente in quel momento hai visto crollare tutto no no ho cercato semplicemente di vedere che cosa con quale lancio potevo farlo più male perché lì come ti posso dire nel momento che Biffoli ha sbagliato ci ho pensato subito a che lancio potevo lanciarlo in quel momento lo avevo lavorato sempre con Tinker e Slider fuori e il Tinker me l'aveva girato bene e ho deciso di tirare lo Slider che era il lancio che domino di più insomma in quel momento lì era quello che mi sono sentito più fiducioso di tirarlo e è andata bene track out numero 11 che ripeto con i 4 di San Marino sali a 15 e dovresti essere ora mi mancano i passaggi dai 12 ai 15 perché dei lanciatori con due gare all'attivo perché sono tutti i primi quelli di Modena Sala Vaganza del Gilone C che hanno 5 squadre e hanno già giocato 4 partite regolari per cui comunque di quelli che il sabato vanno a giocarsi le gare regolari sei il primo della classe te l'aspettavi di cominciare così? no non me lo aspettavo cioè sempre io do il 100% quando sono in campo è uno sport che ci tengo tanto da piccino sì che quando esco in campo mi trasformo do tutto quello che ho però se ti dico la verità non pensavo che stanno con il fatto che c'è anche la Serie A1 era più difficile tutto quanto sì che mi sono impegnato un po' di più negli allenamenti ho cercato sempre di lavorare molto basso la zona dei strike e cercare di non alzare molto la palla essendo una categoria ancora più forte con l'inclusione della Serie A1 è nulla le cose stanno stanno andando bene sì che continuerò a cercare di fare così ma cos'è una tua seconda giovinezza? ma non lo so diciamo che quando uno arriva a una certa età è anche una come ti posso dire è una competizione con noi stessi uno non vuole smettere ma vuole dimostrare anche che ancora può farlo assicché diamo ancora il 100% del 100% capito? non so se me capisce quando stiamo arrivando alla fine vogliamo far vedere che ancora possiamo e niente ancora mi sento molto bene il fisico mi regge alla grande assicché vediamo fino a quando posso giocare ora bisogna fare come nelle passate stagioni dove ti sei sobbarcato la partita del lanciatore straniero della sera del sabato però nell'arco di quanto è il tuo rendimento nel box di battuta so so così così una validina il pomeriggio la validina chiamata perché ti mancava e ti volevi mettere a rifetto e l'hai battuta nel turno finale diciamo è servita per il morale ma non tanto quanto potesse far comodo alla Fiorentina però di questo passo se segui quello che hai fatto l'anno scorso hai finito con una media strabiliante per quello che ti eri abituato a fare negli ultimi anni e sei andato sempre migliorando con l'andare delle partite adesso c'è questo secondo derby quello con i Lancers e la Strassigna che hanno resistito un incontro tipo il vostro con il San Marino per poi cedere 19 a 0 la sera in gara 2 senza battere valide con la vittoria che avete portato a casa a sorpresa contro il Grosseto perché voglio dire se le risultanze del primo match erano quelle che erano forse forse nemmeno voi avreste scommesso nel riuscire a ottimizzare tre battute valide sfruttando praticamente il gioco spugna di Grosseto loro sbagliano i due passaggi i due lanci interni voi fate due punti difendendoli con i denti fino alla fine come giudichi però il l'undici su cinquantanove nel box di battuta si soffre il passaggio di categoria tra San Marino e Grosseto sono due realtà importanti per cui nel box un pochino si sofficchia si si diciamo che il San Marino sono un'altra categoria loro sono molto forti sono lanciatori che si allenano solo cioè fanno solo baseball sono molto cioè lanciatore molto forte via per da dirgli ora ora per loro ci sarà sì scusa noi abbiamo una squadra anche molto giovane assicché fare punti con l'antiatore forti si fa un po' più difficile no cerchiamo sempre di fare gioco di cercare di fare delle cose ma abbiamo una squadra anche molto giovane e questo quest'anno ce la dobbiamo giocare per la battuta credo 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 che stavo sbagliando qualcosa stavo sbagliando mi hanno chiamato Nicolò e il Vipole mi hanno chiamato mi hanno detto che stavo andando molto avanti con il corpo e ora ho lavorato questa settimana su questa su questo errore che stavo facendo mi sento anche molto bene e speriamo che le cose vavano meglio e tra l'altro seguendo il tuo ragionamento riguardo l'estrema gioventù un un'ultima terza parte del line up della nave Baccari e Ciali sono giocatori che di quell'età lì di quel prospetto li abbiamo solo noi nel senso rispetto a tutti gli altri gli altri hanno i lanci sì hanno una squadra molto giovane anche loro con tanti innesti nuovi però sono giocatori che hanno già giocato un campionato di serie a due l'anno scorso i tre ragazzini noi li abbiamo scoperti a Senago quando di necessità virtute dopo le espulsioni in massa abbiamo messo dentro questi ragazzini che ci hanno già comunque corroborato perché voglio dire la il singolo il la battuta valida che ci piazza a un certo punto il il della nave sui dal go è una battuta valida che ci fa sognare in prospettiva sì sono ragazzi molto bravi infatti me lo hanno detto anche la diversi ragazzi che conosco della squadra del grosso e mi hanno salutato molto saluto a tutti loro perché sono molto bravi mi hanno detto voi avete un futuro perché veramente questi ragazzi sono molto bravi incluso le stavo dicendo che questi ragazzi sono usciti da una serie ci hanno fatto salire di un gradino e ci siamo accomodati esatto sì che questi ragazzi ci hanno tanto da dire ci hanno tanto da fare da lavorare con loro tantissimo ma sono bravissimi secondo me sono bravissimi loro si devono credere più che altro perché sono loro che devono crederci che possano farcela perché se non si credono loro non credo che ce la possano fare come io mi credo a 41 anni che ancora ce la posso fare si devono credere anche a loro dipende da loro insomma va bene ore come chiamo come ho detto in telecronaca ore dagli amici allora voi battete due volte non me ne vogliono i Lancers battete due volte i Lancers e Grosseto che si possa accompagnare con una telecronaca dove con la Fiorentina che di cui ero ospite non potevo esprimermi come avrei voluto perché mi sembrava anche un tantino rispettoso visto che comandava la regia della Fiorentina ma a San Marino prometto se poi andate a rivedervela una telecronaca solamente forza Grosseto e non me ne può importare di San Marino e dei suoi professionisti del baseball di Mauro Mazzotti che abbraccia e che ringrazio sarà una due telecronache a tutta randella per il Grosseto e poi vediamo a mezzanotte circa cosa ci hanno regalato i due i due risultati sul dallo stadio di Firenze e dallo stadio Serravalle di San Marino ok ore ci vediamo prestissimo la settimana prossima a presto un abbraccio grazie scusa se ti ho fatto penare ma anch'io sono un pochino ignorantello di queste cose tecniche non ho toccato di fare tutto a presto un abbraccio a presto un abbraccio mentre nella partita che si giocava a Lastra Signa il Lances di Lastra Signa hanno perso la prima partita voglio dire anche con l'alto onore delle armi 3-10 contro la corrazzata di San Marino che ha battuto 16 valide due doppi di Pulsetti il fuoricampo di Scelli e Garbella i Lancers con 8 valide doppi di Marcos Antonio Diaz e Baratella in gara 2 però purtroppo lo strapotere dei Lancers lo strapotere di San Marino con i confronti dei Lancers della Strasign è stato troppo forte San Marino vince e si porta in testa con 4 vittorie su 4 incontri fuoricampi di Celli e Tromp doppio di Epifanio per un anche troppo duro 18-0 per i Ducali e dunque con San Marino prima Grosseto secondo Fiorentina terza e Lancers signa l'astra signa quarti il prossimo weekend ci dà da vedere un grandissimo match di baseball andremo a San Marino a Gran Ducato per assistere per trasmettere in diretta ore 15 e 20-30 San Marino e Copolis Grosseto mentre la Fiorentina baseball rimane al campo di Marte dove va ad incontrare nel derby fiorentino praticamente i Lancers di lastra a signo per cui questo è il nostro primo input con i risultati del weekend allora Academy Nettuno Red Sox Paternò 3-6 4-5 Campidonico Torino settimo Torinese il derby piemontese 5-3 5-2 Concord Modena Salavaganza 4-3 2-3 Salavaganza porta via una vittoria a Modena Bolzano Tecnovap Verona 3-9 0-12 doppia sconfitta del Bolzano Longbridge Bologna Godo che aveva aperto le ostilità di venerdì con la gara in anticipo Godo vince le due manche contro Bologna 3-2 e 8-1 la domenica Senago battuta due volte dal Cagliari 4-9 2-8 oltretorrente Farma Parma oltretorrente Farma Parma Crocetta il derby Parmigiano oltretorrente vince gara 1-9 2 Farma Crocetta vince la seconda 6-0 Montefiascone Nettuno 1-7 1-19 al settimo inning Milano Parma Clima 0-19 al settimo 0-3 vittoria di Parma è grande difesa di Milano che esce con gli alti onori delle armi Dragos Metalco Unipol 6 Bologna 2-17 al settimo 2-12 al settimo Athletics Bologna Rimini Gli Athletics vincono il derby Emiliano 3-1 Marrimini si rifà Artigliando gara 2 12-1 Macerata Rovigo 8-3 7-3 Dunque se vogliamo andare a raccontarvi qualcosa due doppiette nel 2 di giugno di Came Collecchio e Fontana Hermes Salabaganza il Came Collecchio e Fontana celebrano la festa della Repubblica Italiana con due doppiette su Concord Modena e CM Gruppo oltre Torrente il Came Collecchio vince due fondamentali match 7-2 10-3 in chiave di primo posto contro i Canarini del Concord Modena doppietta anche per il Salabaganza che batte due volte oltre Torrente 13-3 all'ottavo inning 11-6 in gara 2 il secondo fuoricampo stagionale in mano del Josef spiana la strada alla rimonta del Came Collecchio Besbo che si difende le mure amiche dello Zinelli superando in gara 1 con Core Modena 7-2 nella serie che vale il primo posto del girone C dove sono partiti prima infatto che sono 5 squadre nel girone paiono partire meglio i Canarini di Mr. Malagoni che nel primo inning passano in vantaggio sfruttando un lancio pazzo di Diego Fabiani in difficoltà con il controllo dei lanci ma capace di crescere inning dopo inning ed uscire dopo 6 riprese dunque questo per quanto riguarda il match di Collecchio contro Modena un big inning da 9 punti nella parte bassa del sesto a fare la differenza in gara 1 tra Fontana, Baganza e CM oltre Torrente e questo è le classifiche andiamo a darvi le classifiche dei vari gironi allora nel girone A Parma Clima 4 giocate 4 vinte a 1000 Grizzi Storino a 500 2-2 Milano 1946 e settimo 1-3 per 2-50 il girone B vede il Cagliari 2 giocate 2 vinte a 1000 Ecoterm in Brescia 1-1 a 500 il Senago 1 su 3 250 il girone C Collecchio 6 vinte 2 perse 7-50 Farma Crocetta 5-3 625 Concord Modena e Fontana Storabaganza viaggiano a Paiate a 500 4-4 CM oltre Torrente 1-7 a 125 nel girone D conducono i campioni d'Italia della Unipol 6 Forteduto Bologna 4 vinte 0 perse a 1000 Bolzano Treco Vap Verona sono a 500 2-2 Metalco Dragons Castellana a 0 ne hanno perse tutte e 4 nel girone E Ozzand Macerata Engels 4-0 4 vinte 0 perse a 1000 Bologna Athletics 2-2 a 500 Erba Vita New Rimini e Rovigo 1-3 250 nel girone F Godo Godo Baseball 4-0 a 1000 Black Panthers Ronchi 2 vinte 2 perse a 500 Cervignano e Longbridge 1-3 una vinta 3 perse a 250 ecco il nostro girone G con San Marino Baseball 4 vinte 0 perse a 1000 Grosseto ne ha vinte 3 poi ha perso la seconda masche con la Fiorentina 3-1 750 la Fiorentina Baseball che mette da parte la prima vittoria una vinta 3 perse 250 il Panama e l'Anchers la Strassinia 0-4 e sta a 0 Giovanni Bortolamai è appena conclusa la gara 1 tra Milano e Parma Giovanni che ha lanciato come ultimo rilevo del Parma come closer e ha tenuto anche la pallina del primo strike out giusto? giusto il primo in questa categoria raccontaci le emozioni di questo tuo esodio con questa maglia così prestigiosa indubbiamente le emozioni si fanno sentire giocare con una squadra così prestigiosa non è cosa da tutti i giorni anzi si può quasi considerare un piccolo sogno che si realizza quindi indubbiamente la tensione le emozioni possono giocare brutti scherzi fortunatamente grazie alla difesa i lanciatori precedenti e l'attacco sono riuscito a salire in una situazione di grande tranquillità che mi ha permesso di lanciare come riesco a fare come so fare senza grosse difficoltà e infatti penso che sia andato abbastanza bene come primo esordio sono soddisfatto sei entrato subito molto a deciso sul monte di lancio è una decisione che ti porterai anche più avanti durante questa stagione? spero di sì io tento sempre di iniziare aggressivo e di dare poco spazio ai battitori in modo che riesca a prendermi un vantaggio iniziale che permette di solito di andare con più tranquillità andando avanti poi con gli inning o con i lanci stiamo ormai entrando nella fase calda di questa stagione stiamo avvicinando a luglio abbiamo un appuntamento diciamo cerchiato con il rosso sul calendario che è l'appuntamento con la coppa campioni le tue diciamo aspettative e anche le tue sensazioni quando hai scoperto che andrai a giocare questa importante coppa? ovviamente una grossa felicità anche quello non mi sarei aspettato di avere questo traguardo soprattutto in un anno così complicato per anche quello che è successo con la mia società precedente di cui penso che magari parleremo dopo indubbiamente è un grande passo io tenterò di dare il massimo si incontreranno avversari molto forti io spero di riuscire a dimostrare di aiutare la mia squadra a fare il meglio che si riesca e di vincere il più possibile l'hai introdotto tu vieni dal Bollate che per una situazione un po' complicata ha dovuto rinunciare ai noi al campionato di Serie A ti sei ritrovato subito bene con i tuoi nuovi compagni durante questi primi sì indubbiamente a Parma c'è un ambiente molto bello sia da parte dei tecnici della squadra di tutto il mondo che ci sta dietro che è un mondo gigantesco scoperto ma con la squadra soprattutto si è instaurato subito un gran legame sono tutti molto molto legati ed è facile farci amicizia subito e trovarci in campo quindi su quello sono contentissimo siamo a una sola settimana della riapertura del Cavalli quindi vi aspettiamo tutti per le due gare contro Settimo Torinese le tue sensazioni sul ritrovare il pubblico all'interno degli impianti sportivi eh su questo indubbiamente il pubblico aiuta molto un giocatore quando sei squadra o aumenta allo stesso tempo a creare un po' di di eccitazione si può dire quindi ha il duplice effetto indubbiamente giocare in uno stadio come il Cavalli è è un grande onore è uno stadio molto grosso che può contenere un pubblico indubbiamente a cui io non sono abituato e spero che questo possa solo aiutarmi a dare il massimo e entusiasmarmi ancora di più grazie mille e in bocca al lupo per la gara 2 grazie crepi allora siamo qui con il pitching coach della hot sand Malvin Vasquez gli chiediamo se è contento della prestazione oggi della squadra e dei lanciatori ciao sì oggi abbiamo fatto una partida contro Rovigo che è una squadra che del primer inning stiamo guardando che loro sono aggressivi con il primo lancio e quindi abbiamo cambiato tutto il plano e iniziamo a lavorare con un lanciatore diverso perché per cambiare la situazione del gioco la squadra di Rovigo non è venuta qua a fare una passeggiata ma ha fatto la sua bella partita quindi un elogio anche alla squadra di Rovigo che ha giocato bene sì loro c'è una squadra buona c'è uno giocatore forte di esperienza che ha venuto qua per giocare forte e hanno dimostrato che lui è un rivale che può fare una partita forte su cosa c'è da lavorare di più per migliorare questa situazione io penso che il campionato adesso è presto che lo ragazzo la squadra sta lavorando piano a piano sul conteo sul lo vatiatore penso che siamo pronti per andare avanti gioco partita per partita e penso che così possiamo vincere di tenere un buon compionato benissimo grazie a Malvin grazie allora ci troviamo qui con Ciccio Aluffi nostro ex manager in macerata quindi di casa gli chiediamo come ha visto la formazione dell'outsend in questo doppio incontro ha visto una squadra sicuramente con un ottimo potenziale che ha bisogno ancora di tempo per rodarsi per mettersi in quadro allenatore nuovo giocatori nuovi quindi è normale che ci voglia un po' di tempo per assestarti le qualità sicuramente a questa squadra non mancano il tempo gli darà ragione abbiamo visto invece un buon Rovigo che non è venuto per niente qua a fare una passeggiata ma che ha impegnato e i punteggi finali non devono comunque fuorviare perché ho visto un buon Rovigo che ne pensa Ciccio? abbiamo una squadra mix tra veterani e giovani abbiamo sicuramente il gap di essere passati da un livello più alto ci alleniamo con l'intensità cerchiamo di giocare con l'intensità sicuramente alcuni errori mentali che sono costati un pochino poi i risultati big in fatti da macerata stiamo crescendo piano piano il monte ha tirato bene qualche problema su qualche rilievo con la mazza ci siamo fatti vedere fondamentalmente usciamo da questo weekend sapendo di poter completare anche con le squadre di Forte quindi progetti per il Rovigo diciamo quello di rimanere sicuramente nella serie principale l'obiettivo è la salvezza confermare i giocatori veterani c'è capito crescere con i nuovi benissimo grazie Francesco prego grazie a voi andiamo a vedere quello che è successo nel turno di infrasettimanale del campionato di softball dove la sestese che arrivava dalle due brutte sconfitte nel derby dell'appennino del softball rimediate domenica perdendo le due gare contro il pianoro va a pareggiare con il riammesso Caserta in serie a uno Caserta sfruttando le decisioni della federazione l'anno scorso si era autoesclusa dal campionato è stata riammessa e va a strappare un pareggio contro la sestese al diamantino di sesto ferentino la sestese stravince 9 a 1 gara chiusa al quinto con l'inzei thomas 1 su 3 nicole thomas 2 su 3 con invece la gara 2 anzi abbiamo anche già da giannini 2 su 3 la thomas 2 su 3 mettendo anche un triplone in gara 2 invece porta via purtroppo la posta intera o casetta che vince 4-2 nella seconda manche pensate sestese che lascia sui cuscini delle basi ben 12 ragazze i classici 12 uomini morti in basi in questo caso 12 ragazze 2 su 2 per l'inzei thomas 2 su 4 per la salvatici e dunque questo è il nostro raguaglio sul nostro baseball nel girone A donati gomme parma banco di sardegna nuoro 08 quinto inning 7-0 al quinto inning caronno bollate 1-0 6-0 bollate saronno 1-0 0-8 al quinto conduce saronno 5-20 1 persa 833 bollate taurus donati gomme parma e caronno 4-2 667 banco di sardegna nuoro 1-25 persa 167 new bollate 0-6 a 0 girone B con sestese casetta 9-1 al quinto inning e 2-4 dragons castellana bertazioni collecchio 7-6 8-0 al quinto pianoro poderi del nespoli forlì 3-14 1-0 dragons castellana 5-20 una persa 833 podere del nespoli forlì e pianoro bologna 4-20 2-perse 667 bertazioni collecchio e sestese 2-20 4-perse 333 casetta che muove la sua classifica portando via la seconda gara a sesto fiorentino una vinta 5-perse a 167 in serie B femminile sweep casalingo sweep vuol dire entrambe le gare vinte da parte della fiorentina softball che se la vedeva contro i piragnias di Valmarecchia Valmarecchia che si presentava all'incontro con molti nomi illustri nel proprio roster facendo preoccupare le leonesse ancora prima di scendere in campo allora finisce con la vittoria della fiorentina softball 2-0 in apertura e poi la vittoria battendo il team di Valmarecchia poi doppietta delle fiorentine che si portano in vantaggio 1-0 e poi chiudono con manifesta 7-0 da segnalare Brusini 1-2 Tirelli 2-2 Biondi 1-2 e dunque brave ragazze la fiorentina softball è prima in classifica 4-0 e 0 perse notizie in giro per il mondo allora in una nota inviata dalle federazioni la CEB European Baseball Confederation nel confermare lo svolgimento di tutte le manifestazioni continentali del 2021 per il nazionale club ha comunicato lo slettamento dell'europeo Under 12 baseball al 10 14 agosto era in programma a luglio confermando la sede di gioco che sarà Morsell in Belgio e allora andiamo a raccontarvi allunghiamo la nostra trasmissione con parlando di baseball americano e dunque facciamo partire dei piccoli filmati che ho trovato su Youtube allora andiamo a vedere quello che è successo nel campionato americano le ultime partite allora Baltimore Orioles Minnesota Twins 6-3 New York Yankees la mia squadra del cuore Tampa Bayerese 4-3 Toronto Blue Jays Miami Merlins 6-5 Washington National che vince sul diamante di Atlanta Braves 5-3 Houston Astros che hanno la meglio sui Boston Red Sox per 2-1 i Colorado Rookies battono i Texas Rangers 6-3 Los Angeles Dodgers San Luis Cardinals 14-3 e poi gli Oakland Athletics battono i Seattle Mariners per 6-0 di seguito il programma di questi due giorni prevederebbe nella notte Washington National Atlanta Braves New York Yankees Tampa Bayerese Houston Astros Boston Red Sox Colorado Rookies Texas Rangers Mentre se vogliamo andare a raccontarvela qualcuno in più allora vediamo quanto è lungo questo servizio allora sì ce la possiamo fare in due minuti il turno scorso dove gli Arizona Diamondbacks sono stati sconfitti dalla seconda squadra di New York New York Mets 7-6 i Chicago Cups hanno battuto San Diego Padres 6-1 i San Luis Cardinals hanno vinto di uno battendo i Los Angeles Dodgers 3-2 gli Oakland Athletics hanno doppiato i Seattle Mariners 12-6 i Los Angeles Angels hanno battuto 8-1 San Francisco Giants gli Arizona Diamondbacks hanno battuto i Mets di New York 6-5 Colorado Rookies ha battuto di un punto i Texas Rangers 3-2 gli Astros di Houston hanno vinto 5-1 contro i Boston Red Sox il doppiaggio vincente dei Kansas City Royals sui Pittsburgh Pirates 10-5 la vittoria dei Chicago Cups sui San Diego Padres 4-3 i Tigers di Detroit hanno vinto sul diamante dei Milwaukee Brewers 10-7 Washington Nationals 30 Braves 11-6 Philadelphia Phillies batte Cincinnati Reyes tanto a poco 17-3 Toronto Blue Jays batte Miami Merlins 5-1 Baltimore Orioles battono i Minnesota Twins 7-4 i New York Yankees battono i Tampa Bay Rays 5-3 e infine i Cleveland Indians hanno battuto di un sol punto il Chicago White Sox per 6 punti a 5 questo è il nostro consuntivo del campionato più bello del mondo il campionato americano dunque questo è un nuovo capitolo che vi ricorderemo sempre in ogni appuntamento del giovedì nella nostra puntata del diamante dunque andiamo ad accomiatarci con voi ripeto nel weekend dopo domani sabato Fiorentina Lanchez di Lastra Signo allo stadio del baseball vita zona ovviamente campo di Marte la troupe di Firenze Viola Super Sport canale 196 la televisione di Ecopolis Grosseto va sul Gran Ducato di San Marino per trasmettere sabato in diretta gara 1 delle 15 gara 2 delle 20 e 30 grazie mille grazie a Enrico Milano che mi ha aiutato nel montare le immagini e raccontarvi quello che è successo la settimana prossima vi prometto che vi racconteremo qualcosa di più andando a fare un assunto dei vari temi che ci regala ogni settimana fibs.it per cui saremo entreremo un po' più nel merito vi lascio però con i leader delle classifiche di rendimento questo sì media battuta conduce Arsila Gonzales di Torino 714 Alessio Zeritale di Bolzano sorpresa italiana 667 Exquiella Agustin Talevi di Verona 643 Lino Correa Gabriele Loi di Nettuno 643 Nicolò Maria Loardi Bologna Fortitudo 636 Le battute valide Collecchio con Andrea Pasotto che ne ha marcate 10 Iosef Timo Marsello di Collecchio 10 Davide Marchi Longbridge Bologna 9 con Francesco Bisaschi Crocetta Parma e Lino Correa di Nettuno i fuoricampi il lato sublimale del baseball abbiamo visto quello di Andrea Biffoli al primo inning di Fiorentina Grosseto in parziale 3 a 0 Collecchio con Alessandro Di Otto che ne ha scaraventate oltre alla recensione 3 Russo di Modena con Leonora con Grimaudo e con Aroce Imeniz ne hanno sbatacchiati fuori 2 poi Matteo Maggio di Grosseto tanto vale metto in classifica 1 come Andrea Biffoli della Fiorentina Baseball i tripli Mantovani di Collecchio poi David Prosperi Montefiascone Matteo Lombardi di Oltretorrente Rengifo di Macerata Francesco Faccendini di Grosseto 1 a testa i doppi conduce Mantovani di Collecchio con 4 insieme a Talevi del Verona e a Bisaschi del Crocetta Parma a 3 Loardi di Fortitudo Bologna insieme ad Albert Shakir Akmel Grigori di Godi punti battuti a casa ne ha messi a segno Lino Correa di Nettuno 11 Atma di Paternò 10 Loardi tra tripli e doppi 9 Deotto Alessandro di Collecchio 9 insieme a Grimaudo della Fortitudo Bologna gli strikeout allora conduce Alcala Cardoza Enrique di Crocetta con 47 poi vediamo un po' quello che è la classifica dopo i 47 della prima posizione Diaz Lezzema di Crocetta oltre torrente 29 poi per Paternò Red Sox Espinosa Hernandez 27 per Sala Baganza Gonzales Valera 22 poi ci dovrebbe essere Martín Pérez Orextis che ne ha firmati 15 in due gare 4 di San Marino e 11 contro Grosseto e a 15 ma con solo due gare disputate è tra i migliori piazzati tra i normali in testa alla classifica con poi tra i lanciatori vincenti Federico Cozzolino di Grosseto ne ha vinte due per Grosseto Pomponi di Parma Clima due vinte poi abbiamo Martín Robles di Crocetta Parma due partite vinte Federico Pecci di Nettuno due vinte e Gabriele Quattrini ex Grosseto di Macerata due vinte questo è davvero la conclusione di questa puntata del Diamante andiamo a vedere se per caso abbiamo qualche altro risultato allora torniamo scusate faccio come si dice tagli e cucci i risultati completi del sabato e domenica di softball Caserta Castellana 0405 Caronno Donati Parma 1-0-0-1 Poderi Forlì Collecchio 14-6 5-1 Saronno New Bollate 23-9-0 Bollate Nuoro 9-2-5-0 di domenica il derby dell'Appennino Pianoro batte Sestese 6-5 in gara 1-7-0 in gara 2 mentre il campionato di softball Castionese White Tiger Massa 8-6-7-0 Macerata Fortitudo Bologna 8-1-5-4 Crocetta Parma Supramonte 2-3-2-4 La Loggia Legnano 9-2 una gara rinviata per pioggia Rovigo Stars Ronchi 10-0-2-0 Nuove Pantare Lucca che pigiano pesante battono Avigliana Rebels 4-1-9-8 Massa Castionese White Tiger Massa 8-6-7-0 in serie B e poi chiamiamo Marco Duimovic per parlarne prima di chiudere Messina Livorno 7-5-8-2 il Padule di Sesto Fiorentino batte l'Alpina 7-3-10-0 il Delby Grossetano il BSC Grosseto batte i Bors Grosseto 7-0-13-3 nel girone Catalana Roma Buers 8-1-7-0 questo è il totale chiamiamo Marco Duimovic al telefono e ne parliamo con lui per analizzare la partita di Livorno del Livorno che purtroppo è andato a perdere due gare in quel di Messina la prima dove ci sono molti 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 rimpianti più netta gara 2 ma sentiamo cosa Marco Duimovic ci vuole raccontare sì ciao ciao Stefano buongiorno ciao Marchino doveroso di potermi soffermare anche su quello che fa il tuo Livorno che purtroppo torna dalla lunga trasferta di Messina poi ci sarà andare anche a Catalana di Alghero il tuo Livorno perde gara 1 con tanti tantissimi rimpianti 7-5 più nettamente gara 2 8-2 raccontaci cosa è successo e com'è andata sì siamo tornati con un puglio di moschia come si dice dal punto di vista della classifica ma la prima partita è stata equilibrata diciamo siamo stati in partita fino all'ultimo poi è finita sul 7-5 la seconda gara nonostante il punteggio sembri diciamo 8-2 bene o male anche lì fino al settimo inning eravamo sotto di due punti poi c'è stato un po' un tracollo ed è andata così d'altra parte questa è una stagione particolare e bisogna cercare di avere pazienza cercare di far migliorare i ragazzi cercare la salvezza il prima possibile perché insomma il programma che abbiamo noi è quello di crescita e avendo a che fare con ragazzi giovani se li ha potuti vedere ci vuole un po' di pazienza poi si devono conoscere anche se devo dire che insomma dei miglioramenti dei piccoli miglioramenti li stiamo vedendo ecco speriamo che dal girone di ritorno si siano fatti un'idea anche loro e la squadra sia più amalgamata e si possa già tirare un po' le somme per avere dei risultati migliori senti nel tuo girone c'era il derby grossetano BSC Grosseto BORS 7-0 13-3 al settimo e dall'altra parte la catalana che ha battuto Roma Brewers 2-0 8-1 7-0 su chi devi fare la corsa? Sicuramente sui Roma Brewers anche perché insomma ma anche sui BORS insomma nonostante noi abbiamo fatto un pareggio i ragazzi hanno capito diciamo come fare io spero già nel girone di ritorno sia contro la squadra di Messina e contro BORS di poter giocare sicuramente in maniera migliore la grossetana è sicuramente più forte più forte di noi e cercherà di vincere il campionato catalana uguale cioè queste sono squadre che comunque hanno un paio di stranieri esperti oltre a qualche giocatore esperto noi abbiamo due o tre veterani italiani non abbiamo stranieri quindi un sacco di ragazzi giovani è un po' più complicato e anche i Brewers che ce la possiamo giocare sicuramente hanno comunque mi sembra due o tre straniere o riundi come si vogliono chiamare e certamente nei momenti importanti questi sono giocatori e una risposta la danno ecco però noi siamo fiduciosi già dei miglioramenti li stiamo vedendo in settimana in settimana senti questo weekend cosa ti attende alla banditella? abbiamo proprio Roma Brewers capitano a puntino i capitolini devi fare bottino pieno vincere tutte e due speriamo speriamo Stefano ma non è così semplice comunque speriamo di dare dei segni di vita come si dice di cercare di fare almeno una vittoria se poi vengono due tanto meglio però insomma bisogna cercare di migliorarsi ed è quello che piano piano stiamo cercando di fare durante già la settimana questi ragazzi che li vediamo impegnati tre volte la settimana agli allenamenti e poi la domenica in campo e insomma comunque come ti dicevo siamo fiduciosi bene e noi ci sentiremo ogni weekend se posso ti vengo a ritrovare ti abbraccio ti voglio bene forza di buono battetemi Roma e fatemi felice benissimo Stefano tante cose ciao Marchino un saluto a mamma naturalmente allora ho trovato un ultimo rilancio che mi arriva da Elena Samoggia che è classificatrice aiuto del comitato toscano classificatori nonché facente parte dello staff del settore giovanile della Fiorentina baseball allora gli under 18 Padule ha battuto la Fiorentina per due volte il 13 e il 26 maggio 6-5 8-6 negli under 15 le 9 Pantane Lucca contro la Fiorentina softball under 15 vincono le Fiorentine 9-7 la Fiorentina batte due volte fa doppietta e chiude il conto con Lucca vincendo anche la seconda manche per 9-8 nel campionato under 15 larga vittoria della Fiorentina a massa la Fiorentina di Andrea Osella 15-4 nel campionato under 12 gli IMCA batte la Fiorentina Brecch 10-5 nel campionato esordienti Fiorentina Rez Padule 20-18 è davvero tutto grazie a la mia cabina di regia Enrico Milano grazie a voi che siete stati con noi a seguirci per questo appuntamento nel Battecorri unica trasmissione nazionale televisiva che vi racconta le note salienti dei vari match dei campionati di baseball softball ma anche una puntatina nei nostri giovanili l'appuntamento è a giovedì prossimo allora ricordo dopo domani ore 15 20-30 stadio del baseball vita zona campo di Marte il derby Fiorentino Fiorentina baseball lancers di La Strassigna parimenti però molto più importante Ghiotto l'appuntamento che realizzeremo a San Marino stadio Serravalle uno dei stadio miti del baseball italiano San Marino ecco Polis Grosseto le due dirette dalle 14.50 presentazione e poi via gara 1 la seconda gara dalle ore 20.20 il lancio della prima pallina alle ore 20.30 Stefano Ballerini con la troupe di canale 196 saremo nel Gran Ducato sarà un altro sabato di grande baseball linea allo studio grazie ci sentiamo e ci rivediamo giovedì prossimo grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri